Ok, ora chiudo la porta e faccio un'ascia di polletti nella casetta. Va bene, come vuoi. Guarda, aspetta. Ho tre uova, non so quale sia la probabilità. Però se le butto. Ok, zero. Niente? Niente, nessun polletto. Io non ho uova. Ho invece provato. Ma alla fine che difficoltà l'hai messo al gioco? Sette. Poi mi dite che ce ne facciamo di undici porte, che sguaglia l'ha fatto. Poi vediamo. Quando apriamo dodici case, come Berlusconi. A posto, dai. Il tesoro è vicino. Ehi, ma questa parte tagliala. Mettiamo una cassa. Fatta da noi. Ehi, ma... Eccola. Eccola cassa. Dai. Potrebbe essere... E poi ci mettiamo dentro, scusa. No, perché il piccone è diventato nell'altra mano? Non ci sono riuscito. Mettiamo i libri che avevamo trovato prima. Ah, eccola la cassa. Sì, ma li hanno visti che abbiamo trovato i libri. Ma la smetti di morire, Giacomo? Mettiamo dei picconi. E scusate se sono un guerriero. E il lotto per la sua rivezza. Ma aiutaci a scavare. Non so che scavare. No. Guarda, quasi, quasi, quasi. Lo senti sta musica? Brutta, ma si deve. Ma la stai facendo la scala, no? Che voi dobbiamo salire. Chi? A chi lo stai dicendo? Io. Io ho avuto il fianco a te senza criterio. Io non la sto facendo. Io sto facendo altre cose. Io ho finito gli ultimi iconi. Forse. Dai, ma vedo se controllo io la scala. Vai, vai. Controlla la scala. Dove dovrebbe essere la scala? Eh, sto scendendo. Madonna, che casino. Ma siete capaci di... Cioè, capisco? Capisco tutto, però. Cosa che vedi? Aspetta, la faccio io. Che cos'è sto scempio? No, no, ci siamo. È che abbiamo visto rocce di... Sì, sì, ci siamo. Siamo vicini al tesoro. Madonna, quanto abbiamo scavato. Quando troviamo i diamanti, non trovo. Sì, vabbè. Tagliamo la parte in cui troviamo i diamanti e li mettiamo nella cassa. Ah, eccola! No, no. Non funziona. Ma guarda che tutti gli youtuber fanno così, che fanno finta. Tipo, oggi ho farmato 3.000 pecore, invece hanno messo la... Per questo le persone seguono me, perché sono uno che racconta la verità. Non sono uno che si mette le cose. Vabbè, l'abbiamo trovato. È andato tutto bene. Purtroppo... Sì, si è rotto il computer nel momento in cui l'abbiamo trovato e praticamente non... Insomma, abbiamo trovato il tesoro. C'era praticamente un bigliettino che diceva l'ho fregato prima che arrivasse voi e giunciatemi il calzino. Un saluto a Samoff. Un saluto a Samoff. E niente. Va sempre di male impegno. E come si fa a capire se è pronto? Sì, sono delle piantagioni. Devi romperle. Qua ci sono delle carote, ho preso una carota. No, hai rotto tutto. No, non ho rotto tutto. Ho preso le carote. Scusate. Ehi, maf. Madonna mia. Ste cose. Dai. Ehi, maf. Per favore. Quante zucche ho trovato. Ok, ho trovato le pecore. Venite qui. Dove? C'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho. Ci sto dando il grano. Dove stai? Prendi il grano. Spieghi e provo a capirlo. Voi dove siete? Ok, hai presente la nave? Vieni alla nave a relitto. Ok, eccomi. Mi dovreste vedere? Sì. Ok, sempre dritto ci sono le pepe. Nonché le zucche. I piccoli. Aspetta, serissimo. Si può fare, mi sa. Non si può più mettere la zucca in testa? Come? Da quando non si può? Ah, quante zucche è? Eccole le pecore. A posto. Ce n'è una nera pure, anzi due. Usciranno colorate. Poi le uccidono. Una grigia, una nera, due bianche. Intanto tosano le uccidete, non le uccidete. Buonissimo. Oh. Che possiamo fare i letti? Vado a prendere le zucche. Ah, ora posso viatterla in testa. Un circolo vizio. Come hai fatto? Come ti spiego, guarda. C'è il caschetto in testa tu, con il cantalolo. Prendo la zucca. E faccio... Ma se non serve... Ma se non serve... Ma se non serve... Ma se non serve... Ma... Incredibile. E' però un'integro che mi sono appena perso? Avete le coordinate? Eh... Sette. Aspetta. Arriva, arriva, arriva. No, non ce l'abbiamo. Meno 215, 71, meno 259. Come si dovremmo fare di... Ma Dave c'è la Minecraft? Sì, c'è la Minecraft. No. No, non ce l'ha. Dave ha got of duty. No, neanche quello. Mi ha detto l'uccellino che si è tolto. Io ho fatto una partita e l'ho disinstallato. Va bene, Dave. Se sei arrivato a questo punto del video, ti sfido a una partita di capra. Ma se perdi con me... Vabbè, con Dave c'è la... Qua si sta arrabbiando il cavallo. Così, a mannanzare la perfezione. Eh, io mi sono perso. Allora, vi dico... Scusando il Tosapecore sul cavallo. Quali servono? Ma si si gara... 136, 160. Qui ci sono un sacco di cavalli. Assurdo. Fai il letto. Che brutta. Voi dormite vicini come Dave, io me lo faccio a parte. No, no, no. Posso avere una stanza mia. Io quello nero. Io ho giù questo, allora. Che fai? Per evitare le incursioni notturne. Occhio, ci sono i zombie. Eh, li ho visti. Oh, c'è uno scheletro. Chi è che si è fatto la torretta? Eh, l'ho fatta io. Ma ci sei sopra? No, no, sono sceso. Mi ho messo l'acqua a posto. E io sto entrando, non so voi. Io sto dormendo. Ma quando dormo, che succede? Cioè, per voi. Eh, se non abbiamo tre letti, non possiamo dormire, mi sa. Ce ne abbiamo tre letti. Arrivo allora. Ah, il mio è il nero alla fine. Tanto hai detto, voglio il nero. Ok, il giorno. Svegliano i lupi. Allora, Giacomo Melone, una freccia conficcata nel braccio sinistro. Poi ti spiego come la vita, la mia storia. Praticamente quando ero piccolo, mia madre mi ha intinto nelle acque del Milo, tenendomi dal braccio sinistro. Come si attirano i cavalli? Le carote. Sì. Abbiamo una carota. Un enderman. Oh, oh, oh. Ammazziamo l'enderman. C'è un enderman. Mi stavo avvicinando perché c'erano anche cose da prendere. Però quello è veloce. Cioè, l'ho già... Attiriamo un cavallo, attiriamo un cavallo. Guarda, guarda, guarda. Ah, eccolo. Dietro di te. Oh, oh, oh. Eh, ma ci ammazza fortissimo. Si sta pushando? No, non lo dovete guardare in faccia. Sono giudati un sacco di video. Potonda! Che botta! È un morto in pieno, proprio. Prova a non prendere le tue cose. Eh, che te ne ha trasportato la merda. No, ti lascio le cose. Aspetta. Eh, sta venendo verso di me. Eh, facciamo dopo. Arrivo, arrivo. Iedatemi. Ah, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Oh, ha preso la... Ha lasciato la Ender Pearls. Prendi la, non lo vedo. Andiamo l'esperienza. Ma anche io non c'è esperienza. Io vorrei le mie cose. Ce l'ho io, ce l'ho io. Non c'è una spada. Vado a lasciare la Ender Pearls dentro la cesta. C'è l'ho io l'arco. Cioè, da quando sono morto io ti sei rubato tutta la cesta. No, bravo, bravo. Eh, che ne so io. Vorrei ricordare il mio casco sparito. Chi ce l'ha questa? Guarda! Ok, dai, ok. Direi che è un buon inizio. Beh, se vuoi farci più video... Ma alla fine il tesoro l'abbiamo lasciato perdere. No, lo troveremo. Eh, lo troveremo. Eh, lo troveremo. No, vi faccio vedere io cosa faccio dentro casa. Che fai dentro casa? Non puoi saperlo. Ma c'è... La quarantena. Imperimento male. Non era un canale... Non mi compriendo lì. Guarda che cosa ho fatto. Se avete la recensione è anche meglio. Perché? Serissimo. Che hai fatto? Ho... Sbagliato. Questo era EttoMaf. No. Eh, mi sa che lo è il mio canale. EttoMaf, è EttoMaf. Quello segregato oppure l'altro? No, no, l'altro, quello bravo. Poverino. Sto ammazzando Dave. No. Si fa. Morto. Mi è andata una piuma. Qua ci sono moltissime pecore ancora. Mi hai fatto ridere. Questa. Quello che pot